è importante avere memoria storica senza memoria non c'è futuro allora dobbiamo ricordare oggi che il 27 novembre di 111 anni e un giorno fa perché oggi è il 28 di novembre è nata la casa automobilistica più importante più prestigiosa più rappresentativa a livello mondiale la casa automobilistica che nei suoi 111 anni di storia ha rappresentato la svolta tecnica e tecnologica un sacco di volte esiste una casa e una sola al mondo nel campo delle auto che ha modificato i pianali prima e meglio di tutte ha modificato le sospensioni prima e meglio di tutte gli sterzi che ha veramente addirittura giusto per dirlo così tanto per chiarire senza le auto e la tecnologia di quella casa automobilistica che gliel'ha regalata la ferrari non sarebbe mai entrata in formula 1 e non avrebbe mai vinto in formula 1 il mito stesso della ferrari non ci sarebbe stato e non solo pensate che ridere in questi giorni quando la peugeot pubblica abbiamo vinto sette campionati del rally sì questa casa automobilistica ne ha vinti così tanti ma così tanti e addirittura in maniera consecutiva e in anni in cui c'erano i tedeschi che spendevano miliardi pur di cercare di batterla senza riuscirci è stata una casa automobilistica che anche ha rivoluzionato il mondo dei paraurti con la delta per non parlare del panno lancia ancora oggi imbattibile altro che la pelle le copie malattina allora vogliamo ricordarlo che 111 anni fa è nata la casa automobilistica a lancia che ancora oggi in tutto il mondo è riconosciuta come il top della tecnologia il top della qualità e il top della sportività spiace che l'unico che non abbia ancora capito questa cosa sia il signor marchionne e l'fca sono gli unici al mondo a non averlo capito proposta caro marchionne visto che tu della lancia dimostrato di non capirci una beata fava ma perché non ce la regali un euro simbolico ce la regali e vedi che cosa ne facciamo oppure paura di essere svergognato sbugiardato perché ti dimostreremmo che cosa può essere ancora oggi la lancia punto di domanda ciao ciao ciao